Buongiorno, io sono Elisabetta e vengo dal Gorno. Mi ha portato qua la disperazione, la disperazione della ricerca di cure valide sul nostro territorio che non ne ho avute in questi anni e soprattutto anche per la spesa, dovevo andare in conto per i vari preventivi fatti, la mancanza di fiducia e su una ricerca su internet ho trovato la vostra pagina e è stato quasi un fidarsi a prima vista, proprio per la presentazione vostra del profilo e ho contattato una persona della mia città tramite email e a sua volta lei con un risultato molto positivo per il lavoro fatto da voi e ho chiesto un preventivo e sono partita e sono qua e adesso felicissimo del lavoro finito. Cosa ci porta, che ricordo ci porta della mondiale a casa? Di voi mi porto, ricordo di tanta umanità, di rispetto della persona pur non conoscendoci, il rispetto del dolore che è molto soggettivo quindi diverso da ogni paziente e quindi l'accoglierci sempre col sorriso, anche se qua lontani da casa, quindi dai propri familiari ti senti anche un po' sola, è sempre il pensiero di chi ha lasciato a casa e insomma voi ci avete sempre sollevato con la vostra presenza, un abbraccio, un sorriso, il fatto di starci sempre vicino e di non farci mai sentire soli in un paese straniero, quello è tanto per chi viene qua. piacere, sarebbe raccomandare altri suoi amici nel nostro policlinico? Sì, da parte mia sì, è un grande sì, positivo per tutto, ecco, poi la cosa che si percepisce subito è la professionalità, sia un ambiente, la clinica che di primo impatto si nota proprio come si dice, la precisione, la tecnica, la pulizia che è la prima cosa che è stata anche all'occhio e poi a susseguirsi tutte le altre cose, la professionalità che avete e la fiducia che trasmette, trasmettono tutti i dottori, le ragazze che troviamo giù in ambulatorio, la logistica, ecco, proprio devo dire sì, mi sono trovata benissimo da consigliare. Siamo felici di avervi risolto il problema. Grazie, grazie tanto a voi, grazie, grazie a tutti.